Stadio 25 aprile di Karate Brianza, il fascino del derby, la tensione della sfida in gara secca. Un concentrato di emozioni che tra 90 minuti, salvo rigore, ci consegnerà la squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. Benvenuti a Folgore Karatese Seregno. Ampio turnover in entrambe le squadre, Longo sceglierà davanti nel suo 4-4-2 Bartulovic e Di Stefano. Balesti concede un turno di riposo a Zoya, Lupu, Gazzo e Bertani. Maglia titolari per la prima volta in stagione per Jimenez e Aga. Sull'esterno sinistro c'è Valerio Tocci davanti la coppia formata da Artaria e Blazevic. L'arbitro della gara è il signor Domenico Castellone della sezione di Napoli. Invio profondo subito per lo scatto di Antonucci. Pallone recuperato in mezzo al campo da Jimenez. Poi Thomas allunga il pallone, errore grave, possibilità di contropiede per la Folgore Karatese con il gomme che sfreccia in area di rigore. Potrebbe anche concludere in porta, mette in mezzo il cross deviazione! E la Folgore Karatese è in vantaggio, dovrebbe trattarsi di un'autoretta di Ferrari. Prova a rispondere il Seregno con questo pallone giocato in mezzo al campo dal numero 93 Jimenez. Tocci prova la giocata, pallone che schizza su Artaria, centralmente per Jimenez, prova a sfondare dentro per Artaria in area di rigore. Buona la sterzata, contatto e ovviamente calcio di rigore! E dunque calcio di rigore per il Seregno per rispondere subito al momentaneo svantaggio. C'è Stefan Nenadovic dal dischetto. Montenegrino ha sistemato con cura il pallone, va lui con il destro nell'angolino! Il pareggio del Seregno, il secondo gol in Coppa Nenadovic. E al tredicesimo minuto è già 1-1 a Karate. Passa il compito della battuta ad Andrea Marconi. Bartulovic, buona la giocata, torna da Marconi con l'esterno, bene per Antonucci, lo va a prendere alto Ferrari. Antonucci prova ancora un altro tentativo di dribbling, salta secco due avversari. Occhio al numero 11 che pennella nel cross, un secondo pollo per in gomme! Grandissima parata di Pesenti, ma era offside. Nenadovic, buono lavoro del numero 14 in mezzo al campo, viene esteso, non è di questo avviso l'abito. Allora contropede della Folgore Caratese con Di Stefano. Occhio al giocata del numero 10, salta secco tra avversari, entra in area di rigore, guarda in mezzo, pensa forse alla conclusione, la fa partire, deviazione, Pesenti fa solo il pallone. Lancio profondo su Blazivic, il buco difensivo della Folgore, Blazivic col destro! Non perdona mai Vlatko Blazivic! Settimo gol per lui in questa stagione, il terzo in Coppa Italia! Seregno va in vantaggio al 39esimo minuto del primo tempo. Nenadovic, sono saliti in area di rigore anche i tre centrali difensivi del Seregno, c'è l'ok dell'arbitro, va Nenadovic, tra l'attoria bassa messa fuori, pallone che schizza sul secondo palo, ma arriva il fischio del signor Castellone che manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi. Seregno avanti 2-1 all'intervallo, con il gol sull'Igorri di Nenadovic e la giocata di Blazivic nel finale del primo tempo. Dopo un lungo intervallo, a causa dell'infortunio corso al guardalino del filale, che ha una contrattura, vedremo se riuscirà a proseguire da qui al termine della gara. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, si riprende sul risultato di 1-2 in favore del Seregno. Il duetto con Valsecchi, prova il cross dalla destra, c'è la deviazione, pallone pericoloso, nella rigore la girata di Tocci, pallone fuori non di molto. Barconi, capitano, opta per il cross, occhio a Bartolovic, dimenticato in area di rigore, in qualche modo rimedda la difesa del Seregno, la palla però rimane lì! La conclusione violentissima di Ngom che si perde fuori di pochissimo. Olgore che ovviamente deve provare a stringere i tempi, meno di mezz'ora alla fine, Burato, si guarda intorno, centrale su Ngom, buona la giocata ancora una volta numero 7, Sibrepre conclude a col sinistro, ancora una volta fuori non di molto, c'è stata una deviazione, sarà angolo. Bertani, grande idea, allarga sulla sinistra per l'accelerazione di Tocci, può prendere campo il numero 19, al limite della rigore, il tocco per Bertani, non riesce nel dribbling, la palla schizza poi su Inverdizi, occhio a Inverdizi in area, mette in mezzo il cross, anticipato Artaria, Marconi, mentre appunto un altro cambio per la Folgore, Marconi opta per il cross, diventa quasi un tiro! Viene sorpreso, Pesenti, la distanza siderale, il gol da parte di De Rosa, 2-2. Clerici dentro per l'inserimento di Invernizzi, che accelera, prova a prendere il tempo sull'avversario, ce la fa Invernizzi, cross per Bertani, girare con il destro! Gran parata di Cortinovis in angolo. va a dialogare con il direttore di gara, 42-40 sul cronometro. Con l'occhio tra il direttore di gara e il suo assistente, viene richiesto l'intervento medico. l'occhiata al cronometro dell'arbitro, non si sa però quanto è stato dato di recupero dopo l'ennesima interruzione. Burato va ad Agnelli, lo attacca Zoya, poi in gomme, scappa via Gregov, la mette fuori Luoni e arriva il triplice fisco del signor Castellone. Ai quarti di finale andrà la squadra, che vincerà la sfida ora, ai calci di rigore. 2-2 al termine nei 95 minuti, primo rigore della serie, va Luoni per il Seregno con il destro, pallone alto. Tocca a De Rosa per la Folgore, va con il piede Mancino, la parata di Pesenti, grandissimo, proprio su De Rosa. Tocca a Thomas per il Seregno, va al numero 5 con il piede destro, la parata di Cortinovis. Burato per la Folgore, ha l'opportunità di portare in vantaggio la formazione di Longo. Va al numero 4, col destro la tocca a Pesenti, ma non basta. È pronto Nenadovic, che ha già segnato nei 90 regolamentari, proprio dal discreto, va lui col destro nell'angolino, grande esecuzione. Fisca l'arbitro, va al numero 20, pallone nell'angolo. Fischia, va in Vernizi, la risposta di Cortinovis, e ora la Folgore ha un passo dalla qualificazione. Ed è il capitano Andrea Marconi ad avere la chance di portare la Folgore ai quarti di finale. Fisco dell'arbitro, va al numero 3, con il piede destro, pallone nell'angolino, la Folgore Caratese vince ai calci di rigore ed è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia.